Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Guido Tramontano Un saluto da me e i miei collaboratori, Francesco e Salvatore E ovviamente un augurio di felice nuovo anno per tutti quanti voi Ringrazio soprattutto coloro che mi stanno seguendo dall'inizio Festeggiamo, tra virgolette, insieme i 10.000 iscritti al canale Ringrazio chiunque, ringrazio della collaborazione Ringrazio tutta la partecipazione che ci avete messo in questi due anni insieme Ebbene, oggi dopo queste feste natalizie volevo iniziare a parlarvi Di un'applicazione che ho trovato durante queste feste e che ho trovato davvero utile e comoda Ve la mostro immediatamente L'applicazione che si trova gratuitamente all'interno del Play Store si chiama Lazy Swipe Molto bene, una volta che andate all'interno del Play Store Clicchiamo su Lazy Swipe Eccola qui Molto bene, questa qua è l'applicazione Andiamo ad aprirla Una volta aperta dobbiamo cliccare su Attiva Lazy Swipe Pro memoria, SMS, potete scegliere di attivarla o no E l'applicazione vi segnalerà delle notifiche sugli SMS Adesso andiamo sotto, scorrendo il dito troviamo dove attivarlo Clicchiamo e potete inserire solo nel launcher, cioè soltanto se state nel menu delle applicazioni O all'interno della vostra home page Launcher applicazioni non a pieno schermo o launcher tutte le app Io tengo inserito launcher applicazioni non a pieno schermo Perché se per esempio sto giocando Sto vedendo un video O un film o qualsiasi cosa essa sia Che mi sto occupando tutto lo schermo Vuol dire che è un'app importante Anche quella per disegnare Per prendere le note col pennino E quindi ho disattivato questa applicazione E ho inserito launcher applicazioni non a pieno schermo Ora scegli le app ad escludere dalla polizia E voi ovviamente scegliete le applicazioni che volete escludere Nel caso inserite eliminare l'app a pieno schermo E quindi per esempio inserisco che Anche se Clash of Clans per esempio è un'app a pieno schermo Io la seleziono e in questo modo in Clash of Clans Si potrà anche swippare e attivare questa applicazione Dopodiché andiamo in posizione Possiamo cliccare la grandezza della posizione Che se vedete bene dove sto cliccando col dito Non so se si vede sulla registrazione Ma in basso a sinistra ci sta questa specie di L Posso aumentare o diminuire la grandezza della L In modo tale da avere più una possibilità di tatto del swipe Possiamo inserire sulla sinistra Sinistra e destra Solo destra In alto E così via Io tengo inserito per esempio solo sulla sinistra Aumento un po' lo spessore E clicco su ok Clicchiamo anche su notifiche Settiamo tutte le applicazioni Che all'interno del nostro smartphone Consentono di ricevere una notifica Tipo Facebook, Whatsapp, Hangout, Instagram, Messenger, Skype E così via E ogni volta che si attiverà una notifica Cioè arriverà una notifica su queste applicazioni L'applicazione principale Lazy Swipe Ce la segnalerà in basso a sinistra con un numero Molto bene Una volta attivato Torniamo nella Home E come funziona? Lo sto tranquillo per fatti miei Nella Home faccio uno swipe verso sinistra Ed ecco qui che si attiva un menu molto comodo In cui che cosa abbiamo? Abbiamo i recenti Abbiamo i preferiti Che possiamo andare a modificare Se teniamo premuto sopra In modo tale che premiamo su una X Per esempio del telefono Clicco poi sul più E seleziono un'app che voglio tenere rilanciato Clicco su ok Poi abbiamo strumenti Strumenti è molto utile Perché possiamo fare un booster Per pulire la rama del telefono Attivare fotocamera, bluetooth, flash, wifi GPS, audio, display e modalità aereo Ovviamente anche queste si possono andare a modificare Se clicchiamo poi sul tasto impostazioni Possiamo ritornare nel menu di Lazy Swipe Per esempio siamo su Facebook Stiamo facendo i fatti degli altri Facendo uno swipe sempre Come abbiamo fatto fino a questo momento Ecco a voi Che si attiverà lo schermo Si attiverà, scusatemi Il menu È un'applicazione davvero interessante Che può essere utile in molte occasioni Per far risparmiare tempo Invece di tornare nella home Scegliere l'applicazione che voi volete E così via E ovviamente pensate al caso in cui State su applicazioni che Magari sono in fase di lettura Vi arriva una notifica da Whatsapp Vi esce Cliccate su uno swipe Verso l'alto Cliccate su Whatsapp E si attiverà Whatsapp Molto bene Spero che il video vi sia piaciuto L'applicazione Vi sia piaciuta E vi consiglio di scaricarla Perché è davvero interessante E utile Lo sto usando tutti i giorni Mi ci trovo Decentemente Anzi Molto bene Bene ragazzi Per oggi è tutto Ci ritroveremo Al prossimo video Mi raccomando Inserite un like Al video Se vi piace Anche se non vi piace Sennò se vi vengo a cercare a casa Non cerco Scherzo Mi sono anche intaccato Olè E niente Mi raccomando ragazzi Seguitici sempre Anche su Facebook Lascerò il link in descrizione E Sappiate che Ovviamente Facciamo il possibile Anche su Facebook E ringrazio soprattutto I miei collaboratori Che mi danno una mano immensa Anzi Facebook Se la gestiscono Per la più Soltanto loro Perché altrimenti Sarebbe davvero impossibile E se qualche volta Non rispondiamo È perché veramente Arrivano Un centinaio di messaggi Al giorno Ed è impossibile rispondere a tutti Anzi Alcuna volta Non li vediamo proprio i messaggi Bene Per oggi è tutto Ragazzi Al prossimo video